Verso il nuovo piano regionale dei rifiuti, se ne discute in consiglio regionale con l'informativa della giunta, a parlare l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni, di fronte però a un'aula che ha visto la presenza della sola maggioranza, con tutte le forze di opposizione che hanno abbandonato il consiglio. Riduzione dello smaltimento, lo stop agli impianti di incenerimento, nuovi impianti green, un'autoscana autosufficiente, questi i contenuti della strategia della giunta regionale, illustrati dall'assessore Monni. Mettiamo in campo, sottolinea il presidente della regione, anche un nuovo rapporto con i comuni per la scelta dei luoghi dove realizzare i nuovi impianti. Il piano dei rifiuti è una prospettiva di intervento, secondo la strategia della regione, che nasce dalle proposte dei comuni, più che porsi in modo dirigistico con la definitiva collocazione. Proprio le proposte dei comuni, degli enti gestori, porterà poi la regione, nella fase successiva, a definire i luoghi. Ma sono luoghi che, anche se arriverà un comitato del NOA a dire non voglio quell'impianto, sono stati scelte su proposta del sindaco e quindi non si creerà quel cortocircuito che aveva portato in passato la regione a apparire come diciamo quell'ente che cala dall'alto delle individuazioni dei siti. E' quindi un meccanismo partecipato, innovativo, ma che sta riscontrando, anche vedendo l'interesse che per le informazioni chiedono da parte dei comuni, ottimo successo. A votare, come detto, i soli consiglieri di maggioranza Partito Democratico e Italia Viva. Ma un passaggio importante che consolida la maggioranza tra Partito Democratico e Italia Viva, sostegno della Giunta, inizia e entra nel merito la discussione sul piano dei rifiuti. I nostri indirizzi sono un atto fondamentale che consentiranno di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti. La transizione energetica deve essere un elemento portante al riutilizzo delle materie, deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. Con questo percorso, dice ancora il PD, la Toscana si pone all'avanguardia nella gestione del ciclo dei rifiuti. È una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee con un occhio all'innovazione volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera. Quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato come ha detto l'assessora e per questo diciamo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito invece di entrare nel merito della discussione trincerarsi dietro una serie di propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Come detto tutta l'opposizione abbandona l'Aula, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Le forze di minoranza avevano posto la questione pregiudiziale e successivamente presentato una richiesta di sospensiva, entrambe bocciate dalla maggioranza. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa c'era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri prima del Consiglio il segretario generale in conferenza dei capi gruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 1948 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Gianni che bontà sua ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura e invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del segretario generale che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio sono state derubricate a autorevole opinioni, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Le opposizioni adesso valutano nuove iniziative formali. Forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne, in realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali che non sono delle comparse in questo momento ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa colpidiati della Giunta. Non abbiamo elementi sufficienti per decidere se siamo stati scavalcati dalla Giunta, attaccano ancora. Se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno della Sisee regionale, l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta e quindi qui bisogna essere chiari, o ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo, come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme. Attenzione, il piano rifiuti è in ritardo, rischiamo di andare in procedura di infrazione perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura. Quindi la colpa dei ritardi ricadrà sui cittadini e ancora una volta oggi si fanno delle forzature ma non si arriva a voler collaborare e a fare il bene dei toscani. Siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del PD fate lo stesso, lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica perché fra tre anni può darsi e ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconzaltare e quel piano viene annullato annullando una pianificazione di tre anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà affattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Non è una semplice diatriba tra maggioranza e opposizione, dice il Movimento 5 Stelle, quello che è successo in aula. È davvero grave. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni, che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diversi tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse su rifiuti. Ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta a straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi già da mesi. Quindi significa che adesso noi siamo ridotti, non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come, ma addirittura quello che presentiamo è carta a straccia, siamo dei passacarte per la Giunta. E questo è inaccettabile anche dal punto di vista della dignità e del rispetto delle persone che fuori si aspettano che in questo consesso siano illustrate, siano portate avanti delle iniziative che avranno effetti reali. Non ci sarà nessun effetto reale per il modo in cui è stato portato avanti. Quindi il nostro punto di vista è tecnico, politico innanzitutto. Il capogruppo del PD stigmatizza l'atteggiamento delle opposizioni. Si sono sottratte al confronto, dice. Abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali, il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano. E poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche. Dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del segretario regionale, che è tutta la nostra stima, ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità. Eventualmente, come ben sanno o come dovrebbero sapere, se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del Consiglio regionale, che è stato richiamato, dovrebbero essere trattati dal Collegio di Garanzia. Poi, nel merito, La Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti. Ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente, non soltanto come regione, ma anche nei vari territori, con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende per dare quindi una risposta in termini anche di competitività e di bilancio ambientale a rifiuti speciali che da lì provengono. Un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe perché le famiglie, ovviamente, soprattutto in fasi difficili come queste, hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate. Adesso il lavoro passa in Commissione Ambiente. Eccola, Presidente. Oggi inizia il vero lavoro in collaborazione con l'Assessore Monni. La Commissione Quarta che presiedo sarà la sede nel quale ci confronteremo con chi proporrà impianti, con Gliato, con i gestori, con tutti i soggetti che avranno attraverso la Commissione la possibilità di dar voce rispetto alle osservazioni di questo piano. Rappresentiamo i territori, rappresentiamo i cittadini, rappresentiamo le imprese, quindi il risultato stamani è anche un po' strano a tutti, forse perché non conoscono ancora bene il ruolo del Consigliere regionale e l'atteggiamento delle minoranze. Hanno abdicato al ruolo di fare proposte e di porre correttivi. Questo, secondo noi, è abbastanza grave. Spero che in Commissione, con loro, con le minoranze presenti, cambi un po' il clima e anche loro, che vengono da territori molto complessi, diano il proprio contributo. Noi lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, insieme all'assessore Monni e alla Giunta porteremo le stanze di cittadini ed imprese. Misure per chi vuole avviare un'attività produttiva o riorganizzarne una esistente nei territori dei comuni montani. Incentivi economici, finalizzare l'attività di cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale a favore delle comunità locali e la legge custodi della montagna, presentata in aula e approvata con larga maggioranza, 33 voti a favore e il solo voto contrario di Forza Italia. L'atto è stato elaborato dal capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, e poi emendato in Commissione dalle proposte dei gruppi di opposizione. Con la proposta di legge custodia della montagna, questa mattina, abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che, pur componendo grande parte della nostra regione, sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento. E lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Con questa proposta di legge, che è diventata legge, noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per cinque anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuole riqualificare in montagna, sopra 500 metri, con un'attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità. Vale a dire che chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il Comune che lo obbliga e gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione che è spesso una popolazione anziana. Certo, è un tassello di un'attenzione di provvedimenti che la Regione ha già iniziato a produrre e che dovranno anche essere oggetto di attenzione e di priorità per il futuro. Una legge importante a sostegno della montagna dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza. Dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi, molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una strada cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!